Sabato 8 marzo, presso la Sala Conferenze di Palazzo Broletto, verranno premiate le vincitrici della terza edizione del concorso letterario Caratteri di Donna. Ne parliamo con l'assessore alle pari opportunità, Morin Casinistri. Sì, sabato pomeriggio ci sarà la premiazione per questo concorso. Il concorso è andato molto bene perché la partecipazione è stata ampia. I racconti sono arrivati un po' da tutta Italia, anche il gap generazionale è tanto, per cui vuol dire che la gente è appassionata alla lettura, le donne sono appassionate alla scrittura e tutto questo fa molto piacere. Qual è stato il tema di questa edizione? Quante poi donne hanno partecipato e se possiamo fare un profilo della partecipante, età media, la più giovane, la più anziana? Devo dire che in quest'anno abbiamo avuto grande variazione di autrici. Intanto il tema era riprendere, la ripresa. L'avevamo appunto un po' pensato in questo momento relativamente critico per vedere come le donne reagivano alla crisi, soprattutto in senso positivo. E in effetti i racconti hanno dato da una parte una sensazione di crisi profonda, ma dall'altra la possibilità sempre di ripresa. Ci sono state ben 114 racconti e devo dire mi sembra il gruppo più numeroso in quest'anno, in questi anni. E le persone appunto erano le più varie, sia come provenienza, quindi dal sud al nord, ma anche come età. Appunto dicevamo che la più anziana era della classe del 1929, quindi insomma non voglio dire vecchia perché noi non siamo mai vecchie, però a tempata. E invece la più giovane è 16 anni, quindi ci fa piacere che sia giovani che vecchie, anziane vogliano mettersi in gioco con la scrittura.